La perla di fagioli al Via del Mare, io ricordo mesi or sono quando Bonucci in un'intervista da Zon tuonava abbiamo pagato l'inesperienza dei giovani per giustificare il rendimento claudicante della Juventus dell'anno scorso quindi questa narrativa distorta ci ha accompagnato con Alleghi che spesso anche in conferenza stampa l'ha ribadito che sono una squadra giovane che deve crescere però mi pare che ultimamente possiamo dire adesso prendendo in esame le ultime due partite quindi quella di Lisbona, Aldalus, la disfatta col Benfica, la partita di oggi vinta di misura, di corto muso usando il vocabolario secondo Max Allegri con Lecce siano stati decisivi proprio i giovani che poi fagioli non è che abbia il fagioli 2001, no se non erro quindi voglio dire 2001 nel calcio ha 21 anni se sei bravo 21 poi si va quasi 2023 quindi 22 giochi ma già magari da anni però vabbè 2001 comunque per carità sei sempre un ragazzo giovane e Healing Junior fa l'assist vabbè assist tra virgolette nel senso lì ha fatto tutto Nicolo Fagioli però andiamo oltre il gol, adesso partiamo dalla narrazione un po' di come è cambiata la partita poi facciamo un passo indietro e parliamo di tutto il match, delle formazioni eccetera e anche poi andiamo a vedere un pochino la classifica Fagioli ha proprio cambiato la partita è chiaro perché poi il gol alla giocata può essere anche un episodio casuale poi Fagioli tecnicamente è molto bravo però giusto il cambio in quel caso lì di Allegri che ha tolto McKennie che è un giocatore anche fisicamente al momento lo sappiamo non è in condizioni per giocare ad alti livelli, ad alti ritmi sì è vero che la Juve non gioca ad alti ritmi però l'intenzione dovrebbe essere quella è entrato Fagioli che ha dato geometria al centrocampo permettendo a Miretti di alzarsi da mezz'ana infatti Miretti si è proposto molto sul lato sinistro dell'attacco del Lecce ha creato un paio di occasioni in cui doveva essere secondo me più coraggioso e tirare però a parte quello nelle intenzioni mi è piaciuto Miretti e questo deve essere il centrocampo della Juve per quello che io dicevo ma anche come tanti altri persone lungimiranti ma perché comprare Parides che è sempre stato un giocatore mediocre un giocatore tra l'altro rotto stessa cosa per Pogba quando tu hai dei giovani ma come per dire Rovella che è stato parcheggiato a Monza che sono bravi e secondo me tra Fagioli, Miretti e Rovella secondo me adesso statisticamente uno buono buono esce tra i tre però debbono giocare e voglio dire tanto lo scudetto non lo vinci né con Parides e Pogba né con Miretti e Rovella quindi tanto vale è far giocare i giovani e valorizzarli cioè nel momento in cui tu non hai una squadra che può vincere cos'è che devi fare? che hai magari problemi economiche devi valorizzare i giovani devi creare valore è chiaro è quello che è la critica più grande che io muova Massimiliano Allegri adesso finalmente stanno giocando oggi addirittura ha fatto giocare su Le che non ha fatto nulla di straordinario però lo vedi comunque un giocatore che sa dare del tuo al pallone ha fatto delle sponde interessanti poi forse giocare lì quasi da attaccante a fare da spalla a Milik non è neanche il suo ruolo gli spazi erano intasati perché la Juve muoveva palla lentamente Lecce faceva una buona densità i Salentini ora si trovano a 8 punti a meno 2 cioè a più 2 scusatemi dalla zona rossa dalla zona retrocessione non vincono dal 16 settembre a Salerno dove sbancarono la Rechi e fece una grande partita che io commentai su YouTube quindi trovate il video quindi devono cambiare marcia però sono una squadra che hanno un'organizzazione non hanno ancora vinto in casa gli manca qualcosina forse dalla cintola in su mi viene da dire anche se poi ci sono i giocatori interessanti Ulman che ha preso un palo Strefezza che però è un po' troppo leggero e che non è un contropiedista quindi se vuoi giocare in contropiede forse era meglio banda erano meglio altri giocatori anche se Zai che è bravo ma mai innescato quindi raccontando il gol stavo dicendo appunto l'ingresso di Fagioli al 46esimo ha cambiato la partita poi l'ingresso di Link Junior al 73esimo e al poco dopo proprio Link Junior che sappiamo ha fatto un'apprezzazione pazzesca al Dalus palla in mezzo diciamo verso era appena dentro l'area verso sinistra Nicolo Fagioli controlla e se voi guardate senza guardare mi pare quindi vuol dire che uno che sente la porta disegna veramente un arcobaleno perfetto che bacia il palo alla sinistra di Falcone e si va a depositare nel reto un Falcone che aveva disinnescato in precedenza nel primo tempo un colpo di testa di Gatti nella seconda frazione un tiro di Milik ma francamente non era mai stato impegnato diciamo in primo tempo la Juve ha condotto il gioco con questa difesa diciamo che diventava tre in fase di possesso con Gatti che scalava a destra Danilo e Alexandro con Quadrado che si alzava però Quadrado veramente male male la Juve ha giocato molto sulla destra poco sulla sinistra più nel secondo tempo con Miretti che andava poi a supporto lì a fare la sovrapposizione a inserirsi anche senza palla però al primo tempo la Juve l'errore è stato che ha mosso la palla troppo lentamente Lecce più coraggioso all'inizio poi con l'andare della partita si è chiuso troppo è stato lì l'errore dei Salentini nel secondo tempo non sono mai ripartiti in contropiede tranne poi nel finale che hanno preso quel palo hanno avuto qualche calcio d'angolo però è stato un arrembaggio un po' estemporaneo quindi l'errore è stato quello non alleggerire mai la manovra e la Juve comunque anche con i cambi il gol te lo trova chiaro stavolta l'ha trovato Fagioli però ecco se ti chiudi così inesorabilmente poi il gol arriva quindi Juventus adesso sale a 22 punti quindi diciamo dovrebbe essere terza vittoria consecutiva diciamo in linea di galleggiamento per ormai l'obiettivo diciamo arrivare nelle prime quattro ecco perché poi la pochezza anche di gioco non ti porterà a fare di più Lecce che secondo me deve arrivare a una svolta c'è una squadra organizzata anche intensa quando vuole però deve fare quello step di proporre più gioco perché se in casa non ha ancora vinto c'è un motivo vuol dire che è mancata anche un po' con l'Empoli mi ricordo pareggio 1-1 col Monza anche quindi è lì che deve fare punti è chiaro quindi Juve che di riferirà fa vince come da pronostico infatti seguitemi su Instagram e TikTok perché bello avevo detto diciamo su tutti ecco bene comunque i nuovi entrati healing e fagioli mili così così però è stato pochino innescato Gatti l'ho visto volenteroso onesto nella prestazione però butta troppi palloni e quella deve essere anche una dirattiva del mister perché ho notato che quando c'era un pallone conteso magari dalla sua parte lo butava sempre in fallo laterale così a caso nel calcio moderno non si può giocare in questa maniera è chiaro comunque Juve alla fine se vogliamo vittoria meritata like iscrivetevi al canale bello grazie